Ragazzi bentornati su Flipper Mania, questa volta parliamo di Bombaster, come vedete dal foglio dell'illustrazione della storia dell'89, ovviamente è ispirato al Ghostbusters, ma che ve lo dico a fare, è un Flipper ispirato al Ghostbusters, ma si chiama Bombaster, ovvero gli acchiappa ossa, invece gli acchiappa fantasmi, e ci sono questi acchiappa disinfessatori che invece di acchiappare i fantasmi, devono acchiappare le schede, a quanto pare. Adesso andiamo a provarlo brevemente, e poi nella prossima puntata andremo anche a vedere il vero e proprio, quello vero dei Ghostbusters, che è uscito l'anno scorso, due anni fa, è uscito, la Gothlib, è bellissimo, così adesso ci accontentiamo di questo che si impagno, non è che sia un'unica paura, però è già una mensa di una parola, ma va bene. Ok, seconda pallina, andiamo, no, è subito, non ce l'ha manco ridata, non ce l'ha ridata, non ce l'ha ridata, non ce l'ha ridata, terza pallina, non può andare, niente, ce l'ha rimangata, questa qui è la visuale quella più ribassata, che muove, che muove, mi hanno fatto tutte le palline, provo a farne un'altra, facciamo un attimo, siamo andati talmente da schifo, che dobbiamo riprovare per forza ragazzi, Eccolo qua. Ma io questo flipper non ne so molto perché in Italia non servisce molto questo flipper purtroppo. E' un flipper abbastanza simpatico, mi piace abbastanza, certo è una spiazzatura del tema delle piappa fantasmi. No, andava giocando, aspetta, è arrivata. Andavamo trovato questa flipper abbastata. E' più spettacolare, però se non lo so, non lo so. No, andavamo giù! Sì, va bene, adesso flipper è difficile il flipper abbastanza. Devo chiedere un'altra volta su tre palline. L'ultima pallina, l'ultima pallina è una modalità. Cioè, naturalmente il flipper abbastanza lo shoot again. La palla... niente. Vabbè, niente ragazzi, sei andato a schifo. La prossima volta proveremo il flipper quello vero dei Ghostbusters. Finalmente quello vero, proprio quello originale. E per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima puntata di Cosba... Sì, di Cosba, sì e buonanotte di Flipper Mania. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti...